Alessio Cindolo che soddisfazione sei stato selezionato per partecipare agli europei nella vera classe optimist un percorso di crescita importante con il tuo allenatore pietro micillo allo yacht club italiano hai raggiunto questo traguardo superando una selezione davvero ostica mi vuoi raccontare come andate abbiamo iniziato a scarlino con tre giorni di regata dove abbiamo beccato condizioni difficili e diciamo che non sono andato benissimo e lì ho chiuso ventisettesimo siamo andati sul lago di garda torbole dove ho beccato le mie condizioni favorevoli dove sono riuscito a recuperare molto e a chiudere dentro il posto per l'europeo ed è stato molto difficile perché abbiamo iniziato con due giorni di batterie per qualificazioni per la gold e la silver e poi gli ultimi due giorni abbiamo fatto gold e silver dove abbiamo beccato condizioni di vento molto forte e difficili. Gli europei saranno tra circa un mese quindi ancora tempo per prepararti al meglio ti sei già posto un obiettivo? Il mio obiettivo è vincerlo visto che l'anno scorso sono andato in slovenia a fare il campionato europeo e ho chiuso decimo non è andata come speravo in più in spagna a cadice in teoria ci dovrebbero essere le mie condizioni favorevoli per regatare. Facciamo un passo indietro Alessio ti ricordiamo sul nostro palco di stelle nello sport tre anni fa come uno dei più amati sportivi della categoria green facciamone ancora un altro passo indietro il tua passione per la vela quando nasce come ti sei avvicinato a questo sport? Mio padre aveva la barca vela e da lì ho iniziato ad andare con mio padre e volevo provare l'optimist che era la barca per i bambini diciamo e da lì è nata a Sestri Ponente alla Lega e lì mi sono appassionato e ho continuato. Naturalmente si guarda anche già oltre dopo l'optimist si termina a 15 anni e poi su quale barca sarai protagonista? Andrò sul 420 con il mio compagno di squadra che ci sta già andando con un suo amico e dove lui mi aspetterà diciamo perché quest'anno finisco la mia carriera da optimist il campionato italiano in Sardegna e da lì farò un 420 e spero di fare buoni risultati. Significa far parte dello Yacht Club italiano? È importante è un grande ruolo e bisogna portare in alto il circolo. Quali sono i suggerimenti che più spesso ti arrivano dal tuo tecnico Pietro Micillo? Di fare quello più facile e non inventarsi tante cose. Pietro Micillo il risultato di Alessio Cendolo è davvero straordinario qualificazione per un europeo optimist una classe dove in Italia anno dopo anno si ottengono risultati davvero importanti e ciò significa che c'è una concorrenza interna da superare già di per sé molto molto elevata. Sì tutto vero quello che hai detto ogni anno sempre di più ci sono tantissime squadre su tutta la penisola che sono organizzate che lavorano che allenano un sacco di giovani ragazzi tanti allenatori di ottimo livello che in Italia sono concentrati soprattutto nella classe optimist. Risultato straordinario che arriva dopo una lunga battaglia una selezione di 20 prove e straordinario anche perché in Liguria mancava un atleta optimist ai campionati internazionali da otto anni e è un evento abbastanza raro. Merito del talento di Alessio e del suo impegno degli allenamenti fatti in tanti anni sicuramente. Che tipo di velista è Alessio Cindolo? Alessio Cindolo è un velista molto talentuoso, molto istintivo e quindi il suo punto di forza sicuramente è la conduzione della barca che fino adesso ha utilizzato l'optimist e sicuramente però sono molto contento perché negli ultimi mesi ha dovuto sopperire alla perdita di velocità causata dalla sua crescita inevitabile con una maggior capacità tattica e strategica quindi sta diventando veramente un velista completo. E come si prepara un giovane velista lungo la strada dell'eccellenza a livello di uscita in barca, a livello di preparazione fisica, a livello anche di sedute tecniche? Ma allora noi abbiamo la fortuna di correre per un grande club che ci mette a disposizione tante infrastrutture e quindi sicuramente la parte tecnica in acqua è la più importante ma mi sento di sottolineare soprattutto dopo questa selezione molto dura, molto impegnativa a livello fisico, anche la preparazione atletica che Alessio ormai frequenta assiduamente da un paio d'anni e che ormai è imprescindibile anche in optimist. Una volta bastava essere talentuosi e non basta più solo il talento ci vuole anche allenamento in acqua, preparazione fisica e poi cominciare a capire quello che è la regata da un punto di vista di strategia, di tattica, di campo di regata. Alessio ci ha detto che vuole andare a Cadice per provare a vincere. L'Italia è sicuramente il punto di riferimento a livello mondiale ed europeo. A livello europeo soprattutto gli spagnoli sono molto agguerriti, giocheranno in casa, avranno il doppio dei posti disponibili in un campo che speriamo difficile da un punto di vista di condizioni meteo con vento forte si spera di trovare anche se in estate tutto è possibile. Sicuramente ci potrà essere corrente e anche onde. Noi che siamo abituati al mare complesso di Genova, talvolta anche la corrente, Ligure, speriamo di non essere completamente impreparati. Gli avversari, come ti dicevo, in parte ci aspettiamo gli spagnoli, in parte sarà una sorpresa perché l'Italia è l'unica nazione che negli ultimi mesi ha continuato sia gli allenamenti che le regate. Nel resto d'Europa quasi tutte le nazioni si sono fermate quindi come competizioni sarà un po' una sorpresa di trovare gli avversari.